Ciao a tutti, in Blender 2.92, che è uscito da poco, la versione 2.92, c'è una nuova funzione che può essere molto utile per chi vuole creare velocemente dei block out in 3D. Ed è questa funzione qua, si chiama Add Cube, però in realtà vedrete che può fare molte più cose. Allora, una volta selezionato lo strumento, vedete, ci appare a schermo una piccola rete che è in grado di appiccicarsi alle varie superfici che incontriamo. Quindi se noi trasciniamo un rettangolo su una superficie, poi rilasciamo il mouse e possiamo trascinare ulteriormente e nasce una nuova forma. Su qualsiasi superficie possiamo facilmente tracciare tutti questi cubi che poi non sono cubi, sono parallelepipedi. Quindi si comincia su una faccia e la griglia vi dà un'idea di dove si collega e si estrude in una direzione oppure anche nell'altra direzione, anche verso il basso. Ci sono altre modifiche che si possono fare che rendono ancora più semplice costruire cose. Intanto, se non si è su nessuna superficie, si traccia e si disegna già direttamente sul pavimento e questo può essere comodo, nel senso che di base non serve avere un pavimento per costruire qualcosa. Dopodiché, appena finito di disegnare, l'oggetto è già selezionato, per cui prendendo la G, la scala, la rotazione, è possibile fin da subito fargli delle modifiche. Quindi, trascinare qualcosa e tra l'altro vedete che si regola sulla base della rotazione che ho dato a questo qua sotto. Quindi questo, che non ha alcuna rotazione, crea il rettangolo così. Su questo rettangolo che è stato ruotato, di base continua così e funziona quindi anche per altre rotazioni. Quindi se io adesso questo lo porto su, lo ruoto in una direzione completamente inclinata, posso continuare a costruire sopra a questa direzione inclinata. Quindi il fatto di averlo immediatamente selezionato è comodo, anche perché posso sempre premere Tab e poi continuare con i soliti metodi che ci sono a disposizione in Blender. Poi l'altra cosa utile è che si possono usare dei modificatori sulla tastiera. Se io premo Control, appare un cerchietto in mezzo e si lega all'angolo più vicino. Quindi premendo Control mi sono collegato direttamente a questo spigolo. In pratica lo vede, poi posso spostare il mouse, Control posso rilasciarlo ed esce. Se continuo a tenere premuto Control, cerca altri lati e angoli a cui appiccicarsi. Per cui posso fare una cosa del genere, ma anche disegnare qualcosa qua, mentre tascino premere Control, toccare una faccia ed ecco che avrò l'estrusione esattamente fino alla lunghezza in cui incontra questa faccia. Quindi Control, Control di nuovo blocco e posso usare il Control per bloccarmi a qualsiasi lunghezza che trovi anche appunto di questi oggetti inclinati o qualcosa del genere. Quindi posso trovarmi esattamente qui e riuscire a indovinare esattamente queste altezze perché ho utilizzato Control per fare Snap. Dopo attivo un attimo Cavity così si vedono meglio i bordini e anzi facciamo both. L'altro modificatore è il modificatore Alt. Quando cominciate a disegnare se premete Alt la figura inizia dal centro e quindi senza parte dall'angolo, con Alt parte dal centro. E se lo tenete come ho fatto adesso anche mentre trascinate nell'altra direzione, quindi trascino, Alt, rilascio Alt, Alt. Se adesso rilascio il mouse e continuo a tenere Alt, vedete l'oggetto si muove lungo, in pratica rimane la metà dove era. Se rilascio Alt continuo ad andare verso l'alto. Quindi possiamo disegnare figure dal centro e oltre a questo abbiamo maiuscolo. Il maiuscolo forza le proporzioni in un quadrato e quindi se lo premo anche quando vado verso l'alto, quello che ottengo è un cubo perfetto. Già in questo modo possiamo vedere, adesso seleziono tutto e cancello, è molto facile creare dei block out di situazioni che vogliamo realizzare. Potrebbe essere un arredamento o qualcosa del genere. E' molto veloce, grazie a queste scorciatoie, ottenere delle forme, control, trascino, trascino, poi questo posso duplicarlo appunto con maiuscolo D, portarlo lì. Quindi è tutto ancora modificabile, quindi anche se ho questo strumento in mano posso cliccare su una delle forme già fatte e andare a utilizzare le altre funzioni di Blender per fare altre cose. E quindi entrare per esempio in Edit Mode e quindi fare facilmente ulteriori modifiche. Vedete se quello che vi basta è un rapido block out è molto semplice ottenerlo con questa nuova funzione. Dovete solo fare attenzione appunto che l'angolo corrisponda esattamente a quello che volete fare. E quindi per esempio se io qua volessi ricreare una situazione simile a quella, control, trascino e poi col control posso facilmente, vedete, ottenere la stessa altezza che ho dall'altro lato. Control di nuovo, se tengo control posso indovinare questo spigolo e poi spostarmi verso l'alto. Quindi diventa molto molto facile ottenere facilmente dei block out, per esempio in questo caso potrebbe essere una stanza con un divano, una vetrina e cose simili. Però non siamo limitati ai cubi. Qui abbiamo a disposizione le altre forme, cono, cilindro, sfera e sfera a icosaedro. Una volta che abbiamo creato un cubo, allo stesso modo possiamo creare altre forme. Questo è il cono, ma ricordatevi anche che quindi shift lo obbliga a essere un cerchio e il cono qui può essere modificato. Quindi vedete ci sono 32 vertici. Se io invece di 32 metto 4, questa diventa una piramide e se la ricorda da questo momento in poi. Per cui posso disegnare tante piramidi e come vedete appunto continua a rimanere ancorato all'angolazione che trova. Quindi ricordatevi sempre che modificando i valori qua giù, dopo appena aver creato un oggetto e prima di passare a un altro, perché se io clicco su un altro, come vedete scomparso, non posso più fare niente. Però nel momento in cui creo la forma, prima di fare qualsiasi altra cosa, posso qui cambiare nei parametri. E una volta che li ho cambiati valgono per tutte le altre forme che continuo a disegnare successivamente. Le cose di prima continuano a funzionare, per cui con il control posso creare altre forme, tutte alla stessa altezza, semplicemente perché ho usato control per collegarmi alle altre punte. E poi, come dicevo, adesso per esempio qua metto 3, posso duplicare con maiuscolo D e poi ricordatevi maiuscolo R ripete l'ultima operazione fatta. E quindi può rendere molto semplice creare delle strutture continue. Quindi se avessi per esempio bisogno di creare una recinzione, posso partire dal cilindro, maiuscolo, in maniera che sia un cerchio, estraggo un cilindro, lo duplico con maiuscolo D, lo sposto qui, maiuscolo R e continuo a premere maiuscolo R fino ad arrivare in fondo. Sarebbe meglio fare un array ovviamente, però è per dirvi che possiamo tranquillamente realizzare le cose con molta semplicità. È un metodo grezzo, è un metodo che può funzionare e comunque può dare dei risultati particolari. Anche il cilindro ovviamente può diventare qualsiasi altra cosa. Quindi sì, ricordatevi questo. E appunto con Alt, disegno a partire dal centro. Ve lo mostrerà sempre come un cilindro, poi quando lo confermate diventa quello che volete e qui potete andare a modificarlo. Oltre al cilindro abbiamo la UBISPHERE, che non sarebbe altro che il classico mondo. E anche qua maiuscolo, è maiuscolo anche in altezza e ottenete esattamente una sfera perfetta. Come detto, maiuscolo, maiuscolo, possiamo andare a modificare i parametri. Per cui se invece di 32 ne metto 4 e ne metto 4 anche qui, ecco che diventa una specie di diamante. Quando li riducete potete ottenere delle forme molto diverse. Tenetene conto insomma che si può fare un lungo cristallo o qualcosa del genere a partire da questo UBISPHERE. Non limitatevi a cilindri e coni. L'ultima forma possibile è ICOSPHERE, che sarebbe l'ICOSPHERE, quindi una sfera fatta in questo modo. E il parametro in questo caso sono le suddivisioni. Quindi A1 è un ICOSPHERE, 20 facce. E se mettete 2 lo divide e ogni triangolo ne diventano altri 3 e così via. E anche questo ovviamente può essere creato molto piatto. Questo ovviamente ha sempre un aspetto rotondo. Ricordatevi che è anche uno dei modi più leggeri per creare una sfera. Se adesso ci faccio tasto destro, shade smooth. Ovviamente si tiro via cavity in questo caso. Però ha un aspetto a sfera con molte poche facce rispetto a questa soluzione qua. Insomma, quindi se ne dovete mettere tantissime, l'ICOSAEDRO ha questo vantaggio. Insomma, un numero di facce ridotto e un aspetto a sfera. Comunque di sicuro la versione con i cubi è decisamente comoda. Per chi ha utilizzato SketchUp, probabilmente si trova un po' più a casa con questo metodo per costruire. Perché è davvero davvero semplice. Unico fastidio, ricordatevi che ve li chiama tutti i cube con... Quindi qua ve ne trovate una marea. E quindi a un certo punto, magari potete tornare all'oggetto normale, fate delle selezioni. Con CTRL J si può fare un join. Con F2 si può cambiare nome. In modo da non perdervi, ecco. Quindi quando avete creato una forma, selezionatene gli oggetti. CTRL J, F2, divano. E lo mettete da parte e non vi perdete. Altrimenti vi trovate tutta la scena con una marea di cube, cylinder e così via. Un'altra cosa. Ricordatevi che esiste la DOM BOOL tool. Quindi Edit, Preferences, BOOL tool. Lo attivate qui. E semplicemente la DOM BOOL tool vi permette di creare delle... Diciamo la maggior parte delle volte quello che ci servono sono delle sottrazioni. Se voi selezionate due oggetti e fate in modo che sia arancione quello che vi interessa conservare e premete CTRL MENO sulla tastiera, il secondo cubo creerà un buco nel primo. Tra l'altro potete continuare a muoverlo, a ottenere altre forme. Se premete X e lo cancellate, viene via. Quindi, per esempio, potrei con ALT, trascino un rettangolo un po' più grande, lo faccio così, lo porto giù. Se io seleziono questo, poi questo in maniera che sia in arancione la parte che voglio tenere, CTRL MENO ed ecco che questo ha tagliato una fetta. Se lo duplico e lo porto su, non funziona perché l'attributo di sottrazione viene assegnato a questo. Però posso riunire questi due con CTRL J e continuerà a funzionare. Quindi faccio un po' di annulla. Se ho una forma che taglia, la duplico e magari voglio ripetere questa cosa, maiuscolo R, ripeto tutto quanto, con la selezione, prendo tutti questi oggetti qui e faccio in modo che l'ultimo selezionato sia l'ultimo, quello che taglia davvero. CTRL J, li unisco ed ecco che tutti quanti diventano un unico oggetto che taglia il mio oggetto precedente. L'oggetto precedente, adesso se faccio un duplicato e lo scalo, continuo a mantenere questa caratteristica di Bool, ma posso tranquillamente andare nei modifiers e buttarla. Ed ecco che per esempio ho ottenuto molto facilmente un palazzo. E con questo posso continuare ad aggiungere delle caratteristiche in maniera molto semplice. Blockout diventa molto molto facile. Ovviamente se voi adesso cercate di spostare qualcosa, si rompe tutto. Con la selezione, selezionate tutto quello che volete che stia insieme. Se voi premete CTRL A e scegliete Visual Geometry to Mesh, trasforma tutto quello che vedete in un'unica mesh che funziona. Quindi adesso questo possiamo buttarlo. E tutti questi qua adesso sono diventati corretti. Posso ancora spostarli, però posso anche tenendoli selezionati fare un join. Ed ecco qui che ho il mio palazzo pronto. Ha l'origine in questo posto, che è un po' fastidioso perché se vado a scalarlo, scala da lì. Ma è sufficiente entrare in Edit Mode, selezionare la faccia su cui vogliamo che ci sia l'origine. Spostare il cursore lì, quindi maiuscolo S, Cursor to Selected. Il cursore si sposta qui, esco da Edit Mode, tasto destro, Set Origin, Origin to 3D Cursor. E adesso l'origine del mio palazzo è qui e quindi posso facilmente crearne dei duplicati, scalarli. Magari appunto sull'asse Z, ecco di nuovo attivo Cavity, Bull, per vedere un po' meglio. Questa funzione qua unita con Bull Tool può diventare appunto ancora più facile da utilizzare per ottenere forme complesse. Quindi anche un cilindro. Parto, premo Alt, premo Shift, premo Alt per fare un cilindro che esca di qua e di là. Seleziono l'altro oggetto, CTRL- ed ecco che ho scavato un buco all'interno. E appunto posso continuare con il mio editing. Quando andate in Edit Mode scompaiono, perché se volete vederli basta premere qua giù nel modifier e continuate a vederli. E creare molte forme complesse. Le posso tenere così come sono, oppure appunto, come vi ho detto, selezione. Selezionate CTRL-A, Visual Geometry to Mesh. Potete buttare quelle, meglio, quelle negative e poi fate CTRL-J. E unite la forma, potete tenervela da parte e continuare. Questo strumento qui, secondo me, è una bella innovazione. Messo anche con Bull Tool, davvero davvero potente. Vi invito a provarlo, soprattutto appunto se utilizzate il 3D come veloce metodo per costruirvi delle situazioni per la prospettiva e poi continuare col disegno bidimensionale. Quindi in questo caso questo strumento è perfetto per essere rapidi nel fare prototipi di situazioni anche complesse, ma rese solo con forme geometriche semplici. Spero che sia stato utile e alla prossima!